Hola babies, bentornati o benvenuti sul mio canale iniziamo subito idratando la pelle come sempre prepariamo il viso con questo siero della Nia Cosmetics vado utilizzando il farsali olio questo qua è il gold, lo andiamo ad applicare sulle labbra perché si potrebbe utilizzare anche sul viso ma sinceramente non amo gli oli sul viso vado ad applicare il correttore di Nars nella colorazione Custard sulle occhiaie e sulle parti dove ho delle discromie, dei rossori non vado a fare una base vera e propria perché è un make up molto leggero vado a sfumare il tutto con la beauty blender umida come sempre poi con il bronzer di Becca vado a sfumare e a riscaldare l'incarnato a scolpire un po' il mio viso facciamo un po' di contouring un po' fatto così, un po' così a caso e poi con la luxury powder della Makeup Revolution vado a definire e a fare un po' di backing poi vado a utilizzare il blush di Anastasia Beverly Hills nella colorazione più pescata che voi sapete è la mia preferita e vado a fare un po' di backing e a tagliare il mio zigomo come sempre con la cipria vado poi a togliere il tutto con un pennello sfumando poi utilizzo di nuovo il correttore che ho utilizzato precedentemente per illuminare e sulla palpebra degli occhi come base vado con la sweet peach di Too Faced a applicare questo colore un po' corallo pescato sfumandolo e poi sulla palpebra mobile vado ad applicare picchiettando questo marroncino caldo poi vado ad illuminare l'interno occhio sotto l'arcata sopraccigliare procediamo con il mascara, questo mascara è fantastico ora vedrete che ciglia che fa, sembrano quasi finte questo mascara è della Too Faced è veramente favoloso, questo è un campioncino che mi è stato dato da Sephora quando ho fatto un acquisto e sicuramente lo ricomprerò perché è veramente una cosa spettacolare come vedete finiti gli occhi andiamo a fissare la base e a rinfrescarla con lo spray fissante di MAC al cocco poi andiamo ad applicare l'illuminante liquido di Moola Cosmetics questo è la colorazione gold lo andiamo a picchiettare e a sfumare con le dita sulle parti che desideriamo poi con l'illuminante di Becca in polvere vado a ripassare dove ho già applicato l'illuminante in liquido poi andiamo con la colorazione comando del liquid lipstick di Kylie Cosmetics questo è della collezione dell'estate scorsa devo dire che non amo i liquid lipstick di Kylie perché seccano veramente tantissimo però purtroppo una volta acquistati bisogna trovare il modo di utilizzarli vado ad applicare il gloss di Dior voluminizzante e questa è la fine del make up spero vi sia piaciuto questa è la versione molto semplice, molto rapida, molto naturale del make up per il ride e spero che possa esservi utile visto che il make up leggero è stato quello che ha avuto più voti su Instagram e nulla, alla prossima, ciao! hola baby's, benvenuti a mi canal nuovamente vamos applicando de una vez crema acero hidratante para hidratar nuestra piel y preparar nuestra piel para la base como ustedes saben yo tengo la piel muy seca y eso es muy necesario vamos aplicando este aceite farsali gold sobre nuestros labios para que los hidrate y los prepare para poner el liquid lipstick comenzamos de una vez vamos aplicando el corrector abajo en mis ojos donde más deseo aplicarlo donde tengo algo de rojo en mi rostro y solamente vamos aplicando poco porque no vamos haciendo una gran base simplemente porque el maquillaje de hoy viene siendo algo muy ligero y muy fácil de hacer vamos difuminando todo con la beauty blender como siempre la beauty blender tiene que estar un poco mojada no mucho pero así vamos aplicando el bronzer de Becca de esta manera difuminándolo muy bien por todo el rostro o sea donde más deseamos vamos haciendo un poquito de contour a mi nariz ahora utilizando el polvo de Makeup Revolution que es como la banana powder vamos haciendo un poco de baking con el rubor de Anastasia Beverly Hills como ustedes saben este es mi favorito vamos aplicándolo sobre nuestros ahora vamos difuminando todo y con el corrector de NARS que utilizamos anteriormente lo vamos aplicando como base para el maquillaje de ojos ahora con la Sweet Peach Sweet Peach, disculpen vamos haciendo el maquillaje de los ojos vamos aplicando este colorcito pescado difuminado muy bien luego vamos aplicando este marroncito de esta manera y por último vamos iluminando la parte interna de nuestro ojo y la parte de arriba que es supuestamente la parte abajo de nuestras cejas ahora con el mascara de Too Faced este mascara me sorprendió bastante como van a ver va a ser mis pestañas como si fueran fintas es maravilloso ven aquí tenemos la diferencia entre el mascara y el que está sin mascara este punto terminamos con el maquillaje de los ojos como ven es muy sencillo y muy rápido vamos fixando toda la base con el Fix Plus de MAC que tiene sabor de coco vamos con el iluminador líquido de Moola Cosmetics esta es la coloración Gold y lo vamos poniendo así con nuestro dedo aplicándolo de esta manera difuminando muy bien luego vamos aplicando el iluminador en polvo de Becca Cosmetics ustedes saben que a mi me encanta el iluminador pues por esto mismo lo pongo donde sea luego vamos aplicando el liquid lipstick de Kylie Cosmetics esta es la coloración Comando tengo que decir que no me encanta sinceramente la formula porque se seca muy rápido y secan los labios pero como ya la compramos hay que utilizarla de alguna manera por esto voy aplicando este gloss de Dior y como ven este es el maquillaje terminado es muy sencillo muy rápido de hacer muy natural muy glowy para el verano y para la heat que vamos a tener mañana y nada espero que les haya gustado que hayan entendido todo lo que le trate de explicar el video es muy rápido pero espero que les haya gustado bueno a la próxima chao assalamualecom merajb 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 merajan merajb 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 ora di fare la mascarina la mascarina è una mascarina è una moda di mascarina è una macarina la mascarina è Too Faced . 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 Le bambini di più di più, che non si può vedere l'olio di più, ma che non si può vedere l'olio di più. Ora, ho sentito ancora con il video. Grazie per aver guardato il video.